Quando siamo creatori, cambiiamo sempre mano in mano. Sono i giorni più belli della vita. O mano a mano che cresciamo, o uno prende la sua strada. Il carattere cambia ognuno di noi. Noi siamo sempre uguali. Quando diciamo che voglio bene, credevo quando erano bambini. Ma quando siamo grandi, non credo più. Credevo solo a mia mamma e mio papà quando dicevano che voglio bene. Ma oltre dagli altri, non credo più. Non ti ammendicare.